Buonasera, abbiamo sperato che questo evento potesse tenersi in presenza, purtroppo però a seguito di approfondimenti che abbiamo e abbiamo fatto questo non è stato possibile. E' un peccato perché noi tutti, così anche come il mondo della cultura, ha bisogno di riconquistare anche quegli spazi fisici come questa bella sala conferenze dove riallacciare anche relazioni, rapporti umani che sono stati lasciati per troppo tempo in sospeso. E saluto quindi e do il benvenuto in questo spazio virtuale a tutti coloro che ci stanno ascoltando e guardando. Come molti di voi sanno, la Biblioteca Regionale Bruno Salvadori organizza ogni anno e quest'anno la terza edizione della rassegna Bibliore Incontr. Gli incontri si inseriscono quest'anno nell'ambito delle celebrazioni di Dante e si inseriscono sempre nell'ambito di iniziative culturali di rilevanza nazionale e internazionale come la giornata della memoria, la settimana plaisir de culture, le journée de la francophonie e il maggio dei libri. La conferenza di oggi in particolare si inserisce proprio nella campagna nazionale il maggio dei libri nata una decina di anni fa, nel 2011, con l'obiettivo di sottolineare il valore sociale dei libri per la crescita culturale, personale e civile. Il maggio dei libri, lo ricordo brevemente, coinvolge in modo capillare enti pubblici, enti locali, scuole, biblioteche, librerie, festival, associazioni culturali, diversi soggetti pubblici e privati e invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali proprio per cercare di intercettare coloro che solitamente o non leggono o leggono poco e che possono essere incuriositi se sono stimolati nel modo giusto. Questo è certamente uno degli obiettivi di questa biblioteca e ci teniamo molto a garantire il nostro pieno supporto partecipando attivamente a questa iniziativa. Con noi oggi abbiamo il professore Edoardo Lombardi Vallauri, professore di linguistica generale all'Università di Roma 3. Si è occupato soprattutto di linguistica generale, linguistica giapponese, linguistica italiana, comunicazione persuasiva, linguaggio e cervello. Fra i suoi lavori scientifici, cito alcuni di questi lavori, la sintassi dell'informazione, grammatica funzionale delle avverbiali italiane, la struttura informativa dell'enunciato. Ci sono poi anche scritti non rivolti ai soli addetti ai lavori, come parlare l'italiano, la linguistica in pratica e la lingua disonesta. È stato anche ideatore e conduttore della trasmissione Castelli in Aria, Rai Radio 3, è ideatore e direttore del sito web rightpronunciation.com per la pronuncia dei nomi propri internazionali del sito oppp.it, che è l'osservatorio permanente sulla pubblicità e la propaganda. Dialogherà con il professor Vallauri la professoressa Maria Pia Simonetti, laureata in lettere, ha lavorato per la Rai, progettando dei programmi culturali, si è occupata di storie di vita raccolte in volumi, fra i quali vita da donne, tramonto e viaggiatore curioso, è consulente letteraria per enti pubblici e privati, e ha organizzato e curato incontri e festival letterali. La passione per la scrittura ha prodotto anche vari libri, tra cui, per citarne alcuni, la raccolta dei racconti Neanche Guido da Verona, la cura del saggio Amata scrittura di Dacia Maraini, il romanzo La nostra storia e il romanzo per ragazzi La guerra invisibile. Ecco, il professor Vallauri, dialogando con la professoressa Simonetti, ci parlerà di come la scrittura, la scrittura accurata, la scrittura bella, che sta vivendo una fase di declino, anche se dovesse soccombere alla modernità, mi pare che descriva in questo modo il rischio concreto al professore, rimarrebbe comunque un elemento centrale della formazione della persona. Ci spiegheranno quindi come una buona lettura e una buona scrittura regalino a chi le pratica diverse capacità e abilità linguistiche e anche di costruzione complessa del discorso che non si acquisiscono semplicemente con l'ascolto o parlando. Quindi per parlarci della morte e generosità della scrittura passo la parola alla professoressa Simonetti che ringrazio insieme al professor Vallauri per aver accettato il nostro invito. Prego. Grazie dottor Ballerini e grazie alla Biblioteca regionale che ci ospita. Sono felice davvero, lo dico non usando a caso questa parola e nemmeno per piageria, di essere qui a conversare con il professor Lombardi Vallauri perché ho letto alcuni dei suoi libri e mi sono spesso divertita e in un po' di occasioni anche emozionata cercherò poi di dar conto di questa emozione. Cominciamo dal titolo bellissimo e un po' inquietante morte e generosità della scrittura che è un titolo che dice che insomma andremo già oltre le solite considerazioni sull'utilità del leggere e dello scrivere. Comincio con una frase che mi capita di citare spesso la scriveva circa 500 anni fa Montaigne e la frase è questa le ragioni del disordine dei disordini che turbano il mondo sono per lo più di natura grammaticale è una frase dai molti significati di una radicalità grandissima e la cito insieme spesso insieme a una forse più pragmatica che ripeteva spesso Dario Forno forse citando Don Milani non sono sicura di questo che è l'operaio sa cento parole il padrone ne sa mille per questo è lui il padrone. Io direi che queste due frasi ci portano a considerare è che noi esseri umani siamo sostanzialmente animali narrativi cioè che per crescere abbiamo bisogno di storie di parole e cresciamo tanto meglio e tanto più in salute quanto più queste storie e queste parole sono buone e dunque l'importanza della lettura e della scrittura. Magari se ci resta tempo in fondo a questa conversazione la solleciterò professor Lombardi Vallauri anche sul rapporto scrittura-oralità che è un aspetto anche molto interessante. Ritorno invece a un'altra citazione che trago da un romanzo di Alba de Sespedes Quaderno proibito Alba de Sespedes fa dire alla protagonista di questo romanzo Valeria una frase altrettanto pesante e radicale dice Valeria da quando per caso ho cominciato a tenere un diario mi pare di scoprire che una parola un accento possono essere altrettanto importanti o anche più dei fatti che siamo abituati a considerare tali. Io credo che questo voglia dire che la scrittura accurata la scrittura la scrittura meditata finisce per rivelare aspetti profondi cioè è un tuffo all'interno è una presa di coscienza è un'assunzione di responsabilità è anche un fare esperienza di sé rubo visto che sono in vena di citazioni rubo a Dacia Maraini una bella riflessione sulla lettura come esercizio di soggettività Dacia Maraini dice leggere è fare un'esperienza di protagonismo perché noi leggendo possiamo vivere vite ulteriori rispetto rispetto alla nostra ecco a tutte queste frasi che che mi appassionano la linguistica e di studio il professor Lombardi Vallauri danno argomenti e sostanza scientifica aggiungo una cosa a margine nei miei ormai remotissimi studi sulla comunicazione e sulle sue patologie avevo imparato che c'è bisogna prendere in considerazione bisogna analizzare un aspetto di contenuto di quello che ci diciamo e un aspetto di relazione ogni ogni scambio comunicativo contiene questi due queste due parti dai libri del professor Lombardi Vallauri ho imparato che la linguistica è uno strumento preziosissimo che ci serve appunto a capire non solo a capire meglio i contenuti e anche le intenzioni comunicative di chi ci parla ma che ci serve anche a esprimere meglio il nostro pensiero e quindi a essere più efficaci nella nostra comunicazione questo non so se non credo non è comunque l'oggetto della conversazione di oggi io spero che possa esserlo magari di una futura conversazione quella di oggi la domanda che ci poniamo oggi è cercare di capire se e quanto la lettura e la scrittura ai tempi di facebook e di netflix abbiano ancora uno spazio e una funzione o meglio abbiano ancora quello spazio e quella funzione che attribuivano loro Montaigne e sespedes chi ha letto l'invito insomma che accompagnava il testo che accompagnava l'invito alla conferenza di oggi ha visto che il professore ha scelto di prendere spunto da uno scritto di Claudio Giunta Claudio Giunta è uno storico è un insegnante di letteratura autore di un manuale abbastanza fortunato uscito nel 2018 che si intitola come non scrivere sottotitolo consigli consigli ed esempi da seguire trappole e scemenze da evitare quando si scrive in italiano ebbene lo scritto di Claudio Giunta da cui il professore prende prende spunto è può sembrare diciamo una sorta di requiem per la scrittura non per la scrittura dei social che il professore Vallauri definisce con garbo no definisce volatile e provvisoria e che noi di solito definiamo magari superficiale e sciatta ma della buona scrittura della bella scrittura ecco il perché della parola morte nel titolo di questa conferenza quanto alla parola generosità sicuramente ne da racconto adesso il professor Lombardi Vallauri altra parola magnifica io aggiungo ancora solo questo che ho apprezzato moltissimo che ci fosse sia nell'invito che nella locandina l'espressione amore per la parola scritta sia perché è un sentimento che provo in sommo grado sia perché secondo me parlare d'amore fa sempre bene specie in questi tempi di di esasperazione e dunque vado alla prima domanda professore e le chiedo questo siamo davvero rimasti così pochi inutili e perdenti noi innamorati della bella scrittura e ancora è stato davvero lo scrivere volatile e provvisorio dei social delle email a a portarci a questo punto a questa svalutazione della qualità della buona scrittura d'accordo grazie anzitutto alla biblioteca e a chi ha voluto organizzare questo incontro nella cui importanza non per la mia presenza ma per il tema assolutamente credo e grazie di questa introduzione della presentazione prima e quindi di questa domanda allora prima di tutto risponderei proprio alla parte finale della domanda e cioè a mio parere la scrittura veloce che produce oggetti destinati a durare poco non è autrice della trascorrere in secondo piano della vecchia scrittura chiamiamola così cioè quella che produceva oggetti più lungamente ponderati più lungamente costruiti e destinati a durare di più queste forme di scrittura più volatili sono conseguenze anche loro di un tempo diverso di un mondo più tecnologico che quindi offre delle possibilità che prima non c'erano e delle possibilità molto tentanti e anche un mondo che produce i suoi cambiamenti molto in fretta grazie in gran parte alla tecnologia per cui mentre prima se tu riuscivi a costruire poniamo una notizia e a diffonderla già ci avevi messo molto tempo a costruirla e a diffonderla poi perché tutti vi accedessero ci voleva ancora più tempo quindi i ritmi naturali con cui si consumava diciamo così un prodotto scritto erano decisamente più lunghi data questa sua persistenza dovuta alle condizioni diciamo tecnologicamente meno avanzate meno digitali di oggi era naturale che anche il tempo speso l'impegno speso a confezionare per esempio una notizia ma non necessariamente solo una notizia anche un'opinione un qualunque tipo di prodotto scritto che questo tempo fosse proporzionale e quindi fosse più lungo quindi si era più accurati nel produrre qualche cosa che poi avrebbe durato di più oggi è facilissimo sostituire continuamente un prodotto scritto con nuovi prodotti scritti e sostituirli non solo nel senso di scriverli ma proprio di diffonderli ovunque e se io ti propongo una nuova cosa ti faccio arrivare una nuova cosa quella vecchia tu non la leggi più perché non puoi leggere tu infinito puoi leggere ogni tanto allora diciamo che queste nuove forme di scrittura non sono la causa del cambiamento ma sono uno degli effetti del cambiamento e poi domandava anche siamo rimasti in pochi a scrivere con accuratezza sì questa è un po' la tesi di Claudio Giunta tra l'altro può essere interessante per capire come vanno le cose nella nella fucina dell'opinione culturali come come si è arrivati a questo dialogo con Claudio Giunta che è un amico siamo proprio amici io noto un articolo di Claudio sul domenicale del sole 24 ore dove lui appunto dice ormai la gran parte di ciò che viene scritto viene scritto per apparire un istante e poi sparire comunque è su un supporto che consente di modificarlo continuamente quindi nessuna scelta rimane diciamo grave nella in una sostanza immutabile ma ogni scelta è revocabile in continuazione e quindi non c'è più l'importanza di costituire un testo con una qualità indiscutibile con una qualità diciamo capace di farsi rispettare perché lo scopo non è più quello lo scopo non è più produrre qualcosa di importante ma è produrre qualcosa subito ecco questo è lo scopo prevalente e vale a livelli molto diversi vale del messaggio in chat che ha sostituito sostanzialmente la lettera faticosamente composta vergata su carta con un inchiostro che a suo tempo era difficile diciamo poi evitare che macchiasse allora bisognava asciugarlo insomma siamo andati da epoche in cui a già scrivere una lettera era molto laborioso poi bisognava avere delle sostanze perché ci voleva un domestico in polpe che corresse con questa missiva al portone del palazzo a vito della destinataria o del destinatario era una cosa complicata mentre adesso ti 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 arriva quindi l'investimento di sforzo in codifica diciamo è proporzionale con ormai nullo investimento di sforzo in tutte le fasi e così via lo stesso vale a tutti appunto a tutti i livelli quindi anche dell'articolo di giornale che finché non era su un sito web ma era sul cartaceo era ragionevole che richiedesse un maggiore impegno e così via naturalmente ci sono ancora gli articoli di giornale su carta però un pochino risentono di questo fatto che ormai siamo tutti abituati a leggere roba che è stata fatta un po' alla bella e meglio perché doveva essere più veloce di ciò che facevano un po' alla bella e meglio su supporto digitale altre quindi è una corsa molto più alla velocità che alla bellezza mentre prima c'era una corsa quella alla velocità non era all'ordine del giorno e quindi c'era una corsa alla qualità allora in questo articolo sul domenicale del sole 24 ore Claudio Giunta concludeva chiaramente tutte queste prassi disabituano a scrivere in modo impegnativo e abituano a scrivere in un modo autoindulgente in un modo poco accurato con tutta una serie di conseguenze che naturalmente non sono belle da vedere cioè sciatterie varie superficialità eccetera però anche conseguenze positive come appunto il facile raggiungimento di chiunque da parte della scrittura e quindi diceva Claudio non è soltanto che assistiamo a un peggioramento qualitativo della scrittura assistiamo anche a una riduzione dell'utilità di una scrittura ben fatta perché se ormai il terreno su cui si gioca diciamo così la scrittura è soprattutto un terreno in cui conta la velocità la ampia diffusione e non tanto altre qualità come in tanti altri settori del vivere aggregato per esempio un tempo era molto utile non so sellare bene i cavalli adesso chi se ne frega di sellare bene i cavalli visto che andiamo tutti con l'automobile no? e allora un audazio temporis acti che dicesse oddio è una civiltà in cui nessuno sa più sellare i cavalli è verissimo nessuno sa più sellare i cavalli non parliamo di ferrarli però chi se ne frega perché tanto non serve più e questa poi è la ragione per cui nessuno lo sa più fare e allora leggendo questo articolo di Claudio mi è venuta una riflessione cioè mi sono detto un attimo e poi mi sono detto le cose che tra pochino proverò a dire e allora cosa ho fatto? ho scritto al domenicale il sole 24 ore e gli ho detto guardate ne ho già parlato anche con Claudio Giunta però io avrei una risposta con una serie di argomenti che riconoscono la diagnosi e cioè è vero che la scrittura sta peggiorando mediamente in qualità ed è anche vero che il motivo è che non serve più che sia molto buona però non serve più che sia molto buona per chi diciamo così non serve più a quasi sempre meno gente serve saper scrivere molto bene ma questo non significa che la gente possa infischiarsi nella scrittura perché saper scrivere molto bene non serve solo a saper scrivere serve anche ad altre cose il come si chiama Massarenti il signore che si occupa del domenicale del sole 24 ore non mi rispondeva mai allora ho detto a Claudio guarda che non mi risponde l'ho detto non userò l'aggettivo che ha usato lui però ha detto facciamolo da qualche altra parte ripubblichiamo il mio e il tuo in modo che questo dialogo perché Claudio ovviamente ha scritto una cosa vedendosi contraddire siccome una persona intelligente ha detto you have a point hai ragione e allora l'abbiamo fatto sul mulino abbiamo pubblicato questa cosa a due voci quello che è interessante è che quando un discorso si fa veramente interessante i quotidiani smettono di interessarsi e si deve andare su una cosa come la rivista il mulino cioè tutto fa parte del quadro che stiamo descrivendo il quotidiano ormai è una cosa su cui la vera riflessione qualche volta può passare qualche volta no a seconda un po' dei gusti di chi lo gestisce però la velocità conta di più in ogni modo cosa è che volevo dire io volevo dire questo sulla scrittura la prenderò apparentemente un po' alla lontana ci sono attività che servono a se stesse per esempio saper accendere un fuoco e tanto più saperlo accendere con legna umida saperlo accendere quando tira vento e ne rischia saperlo accendere sulla neve o appunto sul bagnato è una cosa che un tempo era utilissima cioè chi non sapeva far quello in determinate circostanze non so non poteva mangiare perché non poteva cuocere i cibi oppure non poteva evitare di essere sbranato dai lupi perché i lupi non venivano respinti dal fuoco se lui non era riuscito ad accendere il fuoco quindi c'è stata un'epoca in cui tutti sapevano accendere il fuoco benissimo meglio di qualunque attuale specialista di sopravvivenza avevano degli acciarini però tenevano sempre la roba asciutta ora che non serve più quasi a niente se non è divertirsi quando uno va in montagna salvo poi essere arrestati e portati in galera perché non si può più accendere il fuoco insomma ormai la gente non sa più granché accendere il fuoco l'uomo della strada l'uomo comune non sa accendere il fuoco effettivamente per le ragioni che diceva Claudio Giunte cioè non serve più a niente accendere il fuoco quindi inutile mettersi a deplorare che nessuno sa più accendere il fuoco non serve più quindi la gente non lo fa più e non si esercita e non lo sa fare oppure non so prima tutti sapevano distinguere perfettamente un frassino da un olmo da un bagolaro e da un pioppo il bagolaro per esempio è uno degli alberi più diffusi in Italia tutte le città italiane hanno viali di bagolari e nessuno sa che sono bagolari li chiamano albero allora questa è una decadenza come la gente non sa più riconoscere gli alberi si è vero non sa più riconoscere gli alberi non serve più a nulla riconoscere gli alberi prima se tu eri un ragazzino alto così dovevi riconoscere un frassino da un pioppo perché con un frassino fai un ottimo arco con un ramo di frassino mentre con un ramo di pioppo fai una ciofeca di arco allora se tu dovevi farti un arco come ragazzino avevi interesse a distinguere il frassino dal pioppo non parliamo di prima ancora quando l'arco non serviva a fare i giochetti dietro casa ma serviva per esempio a procurarsi da mangiare allora lì era meglio farlo di bosso perché è molto meglio il bosso del frassino non parliamo del pioppo allora anche questo nessuno sa più distinguere gli alberi perché non serve più a niente salvo a pochi vivaisti e quindi c'è un rapporto di causa-effetto molto lineare quel che non serve più piano piano si disimpara qualche volta però ci sono delle attività che non servono più in quanto tali ma sono degli eccellenti allenamenti per altre cose contigue cioè attività generose per l'appunto per questo io parlavo di morte e generosità ammettiamo pure che abbia ragione il mio amico Claudio Giunta e cioè che la scrittura curata sta morendo e potremmo dire requiem eterna senza rimpianti perché non servi più almeno a tutti quelli Claudio è onesto dice ad alcuni continuerà a servire è chiaro che chi fa il critico letterario chi fa lo scrittore chi fa il zevirista su un giornale bisognerà pure che abbia delle armi linguistiche da sparare al momento giusto però sarà una cosa per pochi e non più una qualità richiesta a tutti sarebbe avrebbe ragione se non fosse che ci sono altre cose invece richieste a tutti che non si esercitano bene da sole ma si esercitano particolarmente bene proprio con la scrittura e con la lettura cioè con la parola scritta e allora è questo il mio discorso se ho parlato troppo mi puoi interrompere se no provo succede questo com'è che noi diventiamo bravi a parlare mentre diventiamo bravi ad accendere fuochi accendendo fuochi e a riconoscere alberi riconoscendo alberi noi non diventiamo bravi a parlare solo parlando e non diventiamo bravi a parlare solo ascoltando chi parla per delle ragioni cognitive e cioè legate al modo in cui la macchinetta di ciccia sanguinolenta che siamo si arrabatta per gestire la realtà noi non siamo anche se abbiamo questa impressione di perfetta trasparenza di perfetta omogeneità fra noi e la realtà noi in realtà siamo delle cosette che si sono adattate per gestire la realtà come meglio possono e quindi ci succedono un sacco di cose a cui noi siamo impari e solo per abitudine non ci accorgiamo che siamo impari non siamo macchine perfette in particolare come funziona il linguaggio rispetto alla nostra capacità di attenzione alla nostra memoria a breve termine nell'eloquio normale non parliamo del mio che è sempre troppo veloce come mi ricordano senza speranza i miei studenti nell'eloquio normale noi andiamo avanti a 3-4 parole al secondo quindi a centinaia di parole al minuto e la nostra memoria a breve termine cioè quella parte del nostro apparato cognitivo che gestisce non le cose che sappiamo tipo non so se ora vi dico le piramidi di Giza che è o perché fra il nemicerino voi ve le ricordate lo sapete però non erano nella vostra memoria a breve termine non ci stavate pensando se non eravate proprio strani che mentre io parlavo voi pensavate alla piramide di Cheope voi conoscete la piramide di Cheope perché è nella vostra memoria a lungo termine ma nella memoria a breve termine noi carichiamo le cose che via via vengono menzionate ora un po' come in un computer la memoria a lungo termine è immensa voi potete conoscete anche non so le angiosperme le gimnosperme il teorema di Pitagora ci sta una quantità di roba però tutta roba a cui non stiamo pensando è il disco rigido nella memoria a breve termine cioè nella chiamiamola così la RAM la memoria ad accesso rapido le cose a cui stiamo pensando in questo momento ecco ci sta poca roba ha un accesso molto più rapido più economico è la memoria di lavoro quella accesa quella attiva forse c'è ancora la piramide di Cheope perché l'abbiamo nominata da poco ma insomma se non ne parlo più non ci penserete più ci sono i concetti che io sto agitando adesso ecco questa memoria a breve termine ha una capienza limitata e la velocità con cui procede il messaggio con cui procede il linguaggio fa sì che noi non possiamo fissarci a lungo su niente appena entra un nuovo concetto la piccola capienza della memoria a breve termine fa sì che il concetto precedente esca quindi supponiamo che io dica una parola che vi piace e che voi diciate i presenti le sanno già tutte le parole ma invece qualcuno che non conosce tutte le parole che io sto usando dice ah bella sta parola utile tra l'altro dal contesto ho anche capito che cosa significa quindi d'ora in poi la uso anch'io ecco questo è fantascienza è pure immaginazione nessuno mentre io parlo può fare questa operazione perché se si mettesse a fare questa operazione si perde tutto quello che sto dicendo dopo e io non mi fermo ogni volta che dico una parola interessante per lasciare tutto il tempo di prendere nota quindi quando noi sentiamo qualcuno parlare pure bene oppure in modo utile in realtà arriviamo a capire quello che dice ma certamente abbiamo poca diciamo la situazione non ci consente di farne veramente tesoro di trasferire questa comprensione in un vero proprio possesso di quello che lui sta facendo non parliamo di quando parliamo noi cioè quando parliamo noi noi abbiamo certe armi una certa dotazione linguistica il massimo che possiamo fare è metterla a frutto ma certamente non possiamo mentre parliamo elaborare delle strategie proviamo a dirla così perché allora tutto avviene in maniera rapidissima e insomma quel che uno già sa fare lo fa ma quel che uno ancora non sapeva fare non impara a farlo quindi c'è questa situazione interessante per cui le situazioni di parlato sia in produzione attiva che in ricezione passiva sono moderatissimamente allenanti cioè ci permettono pochissimo di migliorare mantengono lo status quo e allora com'è che noi possiamo migliorare prima forse avrebbe la pena dire una cosa perché ha citato Dario Fo sull'operaio a cento parole e il il padrone ne ha mille per questo è lui il padrone può essere interessante sapere questa ovviamente questa metafora che è anche un iperbole di Fo su che cosa si appoggia realisticamente allora può essere interessante se ci fosse un pubblico reale io a questo punto gli farei una domanda secondo voi quante parole sapete e la gente non ha veramente idea di quante parole conosce a meno che abbia letto l'articolo di qualche linguista normalmente si stima che uno studente universitario verso la fine del ciclo diciamo quindi una persona adulta ancorché giovane e colta sappia tra le 50 e le 60.000 parole però cosa vuol dire che le sa vuol dire che le capisce se poi si va a vedere quali parole usa quando si fanno le statistiche si fanno delle diciamo così le cosiddette concordanze di per esempio conversazioni telefoniche in gran numero perché telefoniche perché quelle sono facili da avere sotto forma registrata si svolgono tutte con 3.000 5.000 parole questa variazione tra 3.000 e 5.000 più che essere dovuta alle conversazioni perché la media è abbastanza facile da calcolare è dovuta alla diversità fra le lingue perché ci sono lingue in cui le parole hanno più forme per esempio l'italiano è lingue in cui le parole hanno meno forme per esempio l'inglese cioè un verbo inglese ha tre forme mentre invece un verbo italiano ne ha 41 e quindi nessuno sa allora poi i calcoli vengono fatti naturalmente il modo migliore di fare i calcoli è che le forme andato venire vengo eccetera sono un'unica parola però insomma c'è un rapporto circa di un ordine di grandezza circa 1 a 10 fra le parole che le persone capiscono e le parole che le persone effettivamente usano quelle che i linguisti si chiamano la competenza passiva avere competenza passiva di una parola per esempio vetusto energumeno pervicace sono parole che probabilmente lo studente universitario con 50.000 un lessico di 50.000 capisce ma poi le usa no non le usa mai usa sempre le solite parole comunissime le solite 3-5.000 parole e quindi lui ha una competenza passiva di diverse decine di migliaia di parole e una competenza attiva di alcune migliaia di parole questa è la situazione che rispetto al 100.000 molto più come dire il castico di Dario Fo allora cosa succede quando io parlo non incremento granché perché è tutta farina del mio sacco quando sento qualcuno parlare che magari quel giorno ad opera mentre parla ad opera non so 7-8.000 parole in una conferenza di cui però 600 sono parole che io normalmente non uso io le sento le capisco meglio di come le capivo prima ma è molto improbabile che poi io riesca a usarle perché non c'è stato mai un momento in cui abbia detto vai questa parola adesso è mia e mi metto a usarla dovevo seguire e non mi si è fissata nella memoria e quindi la competenza passiva rimane quella tanto per dato che siamo in un contesto in cui ci interessa la scrittura può essere interessante sapere mediamente quante parole contiene un libro di solito le persone su questo fanno delle sovrastime perché dicono il libro cavoli è colto quindi contiene molte parole no un libro un romanzo medio tipo non so se è vero di questo dei promessi sposi o della coscienza di Zeno va sulle 10.000 parole quindi un libro sfrutta molte meno parole di quelle che la stragrande maggioranza dei suoi lettori conosce la ragione si può anche capire abbastanza semplice un libro di solito non ha l'unità di tempo e di luogo della tragedia classica però insomma si occupa di un aspetto della vita di un momento di un luogo e quindi molte parole non gli servono dell'occidente moderno per quel che se ne sa il libro con la più grande varietà lessicale è l'Ulisse di James Joyce che non arriva a 30.000 parole per qualcosa come 112 gliene mancava veramente una manciata all'epoca non si poteva in un attimo fare le concordanze del testo e quindi accorgersene se l'avesse saputo vi immaginate James Joyce che cosa non avrebbe fatto pochissimo bastava poco per arrivare a 30.000 parole invece non è rimasto sotto allora però nei libri in diversi libri ci sono ogni volta 10.000 parole un po' diverse cioè a parte le solite 5.000 uguali per tutti però ce ne sono di molto diverse e allora cosa succede? La lettura è un primo momento di rapporto con il linguaggio ben diverso dal parlare e ascoltare perché se io leggo un testo che ha una varietà simile a una conferenza ma lo leggo a differenza della conferenza che fuggevi e io quando voglio mi posso fermare cioè trovo una parola che mi interessa posso spendere quella frazione di secondo perché poi stiamo parlando di ben poco e basta poco ma è quel poco che manca sempre nello scambio orale quella frazione di secondo per dire ah questa parola vai prendiamola davvero cioè impariamola non c'è bisogno che uno decida così volontaristicamente moralisticamente di impararla di fatto basta che la sua attenzione si soffermi un pochino di più perché quella parola venga presa nella memoria a breve termine e mandata nello stock dove ci sono la piramide ad aspettarla diciamo la piramide di cheop quella di cheferne quella di micerin da quel momento in poi è possibile che la persona usi la parola però la lettura quindi questo primo stadio di rapporto con la scrittura può essere sfruttata così o anche no molti non leggono con questa mentalità molti sono trainati trascinati da due cose dal fatto che il testo contiene dei contenuti che vanno aggiungendosi e che sono per così dire invoglianti ad andare avanti senza fermarsi e poi da proprio dalla abitudine a processare un testo linguistico nello stesso modo in cui processiamo i testi orali perché la lingua nasce nell'oralità la scrittura segue di diverse decine di migliaia di anni il parlato è un errore prospettico quello nostro che quasi identifichiamo il linguaggio con la sua forma scritta in realtà il linguaggio più o meno come lo conosciamo adesso è nato almeno 60.000 anni fa mentre la scrittura diciamo circa 10.000 anni fa non c'è possibilità di gara quindi noi abbiamo evoluto il nostro modo di gestire il linguaggio soprattutto nella sua forma orale di cui la scrittura è poi una trasposizione secondaria allora di fatto siamo portati quando leggiamo un pochino a diciamo non sfruttare appieno questa situazione naturalmente ci sono situazioni di lettura o guidata o assistita o come dire in stradata che possono essere molto migliori ad esempio la lettura in contesti di istruzione la lettura a scuola con una persona che ti guida che ti fa riflettere perfino la lettura commissionata per così dire assegnata per le vacanze sotto l'ombrellone almeno in alcuni di noi così più questi bravi ragazzini responsabili a sé il professore ha detto leggete questo libro capiscono che non è solo leggetelo per sapere di cosa parla ma leggetelo in un modo che lasci in voi una traccia quindi già questo già una lettura con la chiave di lettura cioè con la corredata dell'atteggiamento da avere può essere più utile della semplice lettura e certamente molto più utile del semplice ascolto partecipato però arriviamo al vero punto e cioè tutti questi problemi la mancanza di tempo che affligge la oralità la mancanza di motivazione sufficiente dell'atteggiamento giusto in molti casi della lettura non riguarda la scrittura quando uno si mette a scrivere il tempo è moltissimo paragonato a quando parla anche nelle forme di scrittura più veloci e non c'è alcun dubbio che la motivazione è molto presente perché uno sa di avere un compito e sa che a seconda di come lo svolge il risultato sarà migliore o peggiore quindi è impossibile che scrivendo uno non sia portato a domandarsi è meglio così o è meglio cos'ha qui va bene questa parola o ce ne vorrebbe un'altra quindi scrivendo se uno ha la competenza passiva di vetusto e si tratta di dire che c'è un edificio vecchio ecco lì è possibile veramente cioè veramente può giocarsi questa possibilità che uno dica ma vecchio vecchio l'ho appena detto di quel signore che mi aveva chiesto l'emosina ora forse l'edificio è meglio dire vetusto lo usi una volta e lo hai per sempre cioè una volta che tu hai fatto mente locale perché il tuo compito era ben diverso il tempo la motivazione erano diversi e hai avendo questo compito hai capito che vetusto era meglio oppure invece di dire era felice era allegro ti viene in mente di dire raggiante perché così oltre a dire semplicemente il dato interiore tu attraverso la parola raggiante capisci scrivendo perché hai il tempo di pensarci che della faccia di quella persona si vede che ha qualcosa di diciamo di espansivo che si comunica all'esterno di visibilmente felice no? dici raggiante invece di felice ecco che quella parola entra a far parte della tua competenza attiva e cioè crucialmente non solo la riuserai scrivendo ma la siccome ormai è della tua competenza attiva la riuserai anche parlando quindi è scrivendo che si diventa più bravi a parlare molto più che parlando quindi non è come accendere il fuoco riconoscere il frassino dal pioppo ma è un'attività che non allena solo a se stessa ma allena anche ad altre attività dato che siamo in Val d'Aosta in pratica scrivere se non fosse che anche tantissime altre cose di cui non parliamo oggi oppure parleremo dopo scrivere è come fare delle flessioni sulle gambe a chi serve fare le flessioni sulle gambe? un attimo se io poi voglio andare a sciare meglio che di flessioni sulle gambe ne faccia molte cioè ci sono indubbiamente dato come siamo fatti noi umani dati questi nostri limiti ci sono delle attività che in sé per sé possono sembrare diciamo arrivare solo a un certo punto di utilità ma sono utili anche per altre attività sono utili come propedeutiche ad altre attività a cui possiamo tenere di più ecco a parlare bene tengono tutti c'è chi non ci tiene perché non ci ha pensato abbastanza tuttora a parte che la storia della cultura è disseminata di dichiarazioni in fondo dell'ovvio ma anche di buona invece di dichiarazioni di buona qualità non so Wittgenstein De Mauro per dirne due che vanno per la maggiore hanno detto molto chiaramente che siamo una specie siamo un aggregato di individui che in cui sapersi esprimere bene è forse la cosa più utile di tutte cioè l'impressione che gli altri si formano di noi che piaccia o no a chi tiene al giusto al buono al bello al vero però l'impressione che le persone si fanno di noi dipende molto più dalle nostre parole che dalle nostre azioni e questo è un grosso problema però individualmente parlando chiunque dica io non ho bisogno di parlare bene è un cretino perché professionalmente amichevolmente intimamente direi sia quando uno ha degli scopi onesti che quando uno ha ancora di più quando uno ha degli scopi disonesti qui diciamo così cito i miei lavori recenti per cui l'ho molto presente questo fatto più uno è bravo a servirsi del linguaggio meglio è per lui per questo nella locandina abbiamo messo la scrittura regala dei vantaggi proprio molto pratici chi parla bene si impone più facilmente è un valore aggiunto notevolissimo praticamente in tutti gli scopi che noi abbiamo e che coinvolgano dei nostri simili quindi o uno si eremitizza o si barbonizza o si animalizza nei boschi cosa che però fanno pochissimi oppure tutti gli altri è inutile che si chiamino fuori gli convenerebbe parlare meglio di come parlano quindi gli convenerebbe esercitarsi a scrivere bene riparto da qui cioè da questa da questo diciamo da quest'utilità del parlar bene che si realizza attraverso tutti i passaggi e quindi attraverso la scrittura di cui lei parlava prima avevo letto alcuni anni fa una una ricerca i risultati di una ricerca che avevano fatto aveva fatto l'università di di Birmingham analizzando tutta una serie di prodotti venduti su ebay 60-70 mila prodotti ed era venuto fuori in maniera lampante che lo stesso prodotto venduto utilizzando certe parole otteneva cioè veniva venduto a un prezzo più alto di un altro dello stesso che veniva proposto con parole diverse mi era rimasto impresso un esempio ne facevano tantissimi cercatori di questa ricerca quello di un orologio di uno stesso orologio che venduto for gent per gentleman era stato venduto a 70 sterline e lo stesso orologio venduto for man per uomo era stato venduto a 30 sterline e quindi dal punto di vista diciamo mercantile commerciale utilitaristico eccetera mi pare assodato e poi appunto gli studi del professore ce lo ce lo ribadiscono mi interessava capire un'altra cosa se c'è anche un aspetto di uso un concetto caro Alex Langer quello di desiderabile di desiderabilità e quindi se ci sono appunto al di là dell'aspetto utilitaristico delle ragioni per cui è desiderabile ritornare o tornare o insomma avere un uso migliore della lingua scritta e parlata lei nel suo libro la linguistica in pratica dice una cosa azzardatissima secondo me e cioè che usare le parole in modo efficace implica rapporti umani migliori ed è quindi un presupposto della felicità felicità non è una parola che si trova così facilmente nei testi nei saggi a meno che non si tratti ovviamente di testi di filosofia e e lei tra l'altro ha anche non solo la utilizza ma anche si è posto ho letto in uno dei suoi libri un obiettivo didattico che secondo me ha davvero molto a che fare con la felicità lo avrebbe fatto con la mia la mia felicità di studentessa se all'epoca avessi avuto queste queste dritte e lei dice sostanzialmente mi veniva in mente che la parola studiare deriva dal latino studere che vuol dire desiderare anche e quindi ritorno all'idea di desiderabilità e quindi lei spiega ai suoi studenti man mano che spiega che cosa serve quello che stanno studiando e questo mi sembra davvero una cosa una cosa estremamente interessante ecco mi piacerebbe parlare della scrittura e della lettura in termini di felicità di desiderio di piacere così partendo da questi piccoli spunti è una è una domanda molto complessa e però molto per me molto interessante la felicità non dipende mai completamente da stati di cose oggettivi cioè ci sono persone che stanno letteralmente morrendo di fame e stanno psicologicamente interiormente meglio di persone che hanno non solo tutto quello che apparentemente manca a queste persone che stanno morrendo di fame ma hanno infinitamente di più e non è detto nemmeno che questo di più siano solo beni materiali cioè ci sono persone circondate dall'affetto dei loro cari e dei loro amici che stanno malissimo e persone che non vedono mai nessuno che stanno benissimo e così via insomma non si riescono a trovare dei correlati oggettivi altrimenti ci saremmo poi attrezzati per renderli disponibili a tutti e così via oppure invece no per venderli a caro prezzo ma insomma non ci sono allora cosa succede però che localmente per così dire ci sono dei più e dei meno cioè siamo in grado di dire io preferirei così su questa scala per esempio tra non possedere nulla e possedere tantissimo quasi tutti preferiscono possedere tantissimo alcuni preferiscono non possedere nulla però ognuno ha una sua preferenza verso cui aspira allora mediamente noi aspiriamo ad avere diciamo a poter realizzare quello che ci proponiamo questa è una delle cose più vicine alla felicità proprio perché è formulata in modo relativo cioè non è che ci sia una cosa che rende felici però quando uno desidera una cosa poter agire efficacemente in quella direzione di solito procura dei momenti che sono quelli che poi quasi tutti chiamano di felicità cioè la più la sua migliore approssimazione ovvero non l'ottenimento ma la fase di avvicinamento la fase di miglioramento di realizzazione di portare in essere quello che a cui noi tendiamo ecco allora le abilità sono molto parenti della felicità intesa in questo senso e cioè per esempio se io quello che voglio è trasvolare diciamo trasnavigare come si dice l'oceano atlantico più sono bravo a procurarmi la giusta barca a guidarla eccetera eccetera più in tutto questa mia impresa io godrò di momenti di felicità se invece io continuamente fallisco per inadeguatezza non avrò le stesse soddisfazioni ora una delle cose che più spesso si presentano come abilità utile a ottenere qualcosa è proprio la parola come dicevo prima quindi non è tanto importante qual è lo scopo che io mi prefiggo ma tutte le volte che questo scopo coinvolge degli altri esseri umani io avrò la sensazione di operare bene di essere efficace avrò la sensazione che quello che sta accadendo con me in me e per me sia di buona qualità e quindi avrò qualcosa che somiglia abbastanza alla felicità che è soddisfazione gratificazione sensazioni positive di tipo valutativo su me stesso eccetera eccetera ecco naturalmente non è l'unica abilità però è una di quelle tra l'altro più buona to fair no veramente sono rarissime le attività umane in cui non serva sapersi esprimere meglio in questo senso nel mio libro dico che la linguistica serve perché la linguistica è come le istruzioni del maestro di sci rimango sulla metafora chiamiamola così valdostana e cioè tu puoi anche imparare a sciare semplicemente andando dietro a uno che scia bene e se ti va bene non ti rompi mai le gambe che di solito siccome avviene quando hai 5-6 anni non te le rompi però se non hai questo beneficio di vivere in un ambiente che ti fa acquisire la sciata quasi per osmosi con l'ambiente circostante tutti noi abbiamo esperienze noi peones dello sci abbiamo esperienza che qualcuno che ti spiega i meccanismi le funzioni le strutture coinvolte che ti spieghi per esempio che se tu alleggerisci le code quelle girano e se invece ci lasci il peso non girano allora che per alleggerire le code bisogna flettere in modo tale da poter poi avere un movimento verso l'alto ecco se non c'è un maestro che te lo spiega se tu non capisci il meccanismo che c'è dentro questa capacità che potresti anche avere istintivamente impare più lentamente e peggio quindi capire il meccanismo capire le funzioni la struttura di una procedura di cui siamo padroni in maniera migliorabile ecco capire concettualmente è molto utile per far meglio ora la linguistica è per il linguaggio per il parlare e lo scrivere quello che le istruzioni del maestro di sci sono per lo sciare in questo senso dicevo alla fine la linguistica ti può rendere un po' più felice cioè ci credo veramente non cerco solo di far sì che gli studenti studino meglio una delle cose che mi ha colpito di più tra quelle che lei ha scritto è che il linguaggio costruisce costruire la linguistica credevo di aver attivato il microfono dicevo una delle cose che mi ha colpito di più tra quelle che lei ha scritto è appunto che il linguaggio costruisce il mondo nominandolo e appunto io ho avuto sempre questa quest'idea di cui non mi so dare una spiegazione razionale un'idea che mi fa anche abbastanza paura appunto che le parole hanno il potere di fabbricare la realtà e mi veniva in mente che è chiaro che siamo cresciuti in un contesto in cui un'affermazione nodale è in principio era il verbo però insomma leggerlo leggere una cosa così in un testo in un testo di linguistica mi ha mi ha emozionato devo ammettere non so bene a che distanza siamo da cogito ergo sum penso dunque sono però lei insomma ha scritto che ci sono concetti che iniziano a vivere a esistere nel momento in cui vengono nominati quindi noi crediamo dice lei che si parta dal mondo reale per arrivare al linguaggio mentre è il linguaggio che costruisce il mondo nominandolo cioè che costruisce il nostro modo di pensare il mondo mi affascina e vorrei saperne di più questa lei mi presta intuizioni importanti che non sono mie ma che io ho creduto di riproporre agli studenti perché ma naturalmente un manuale deve dire le cose importanti va chiarito che mentre in fasi più arcaiche del pensiero si era vicini a credere che veramente la parola potesse creare la realtà quindi l'induismo il prologo di Giovanni no perché se tu fai entrare in gioco il jolly e cioè un'entità onnipotente che con la volontà può creare l'universo allora non ci vuol niente che con la parola ne crei o una parte o il tutto però ecco qui c'è del pensiero magico che consente di interpretare in maniera addirittura letterale questa idea che la parola sia poietica cioè sia creatrice e invece ormai di solito voliamo più basso e invece dei testi sacri delle grandi religioni gli autori che normalmente si citano per introdurre questa idea sono soprattutto Sapir e Worf cioè due antropologi linguisti e Worf all'inizio era soprattutto un assicuratore forse vale la pena anche di raccontare perché dal fare il liquidatore dei sinistri si è arrivato all'ipotesi che la parola plasma la realtà oppure Wilhelm von Humboldt che a cavallo diciamo tra il 700 e l'800 ha cominciato a esprimere in maniera molto chiara che il linguaggio non si limita a recepire la forma che il nostro pensiero dà alla realtà e a rispecchiarla il meglio possibile ma se tu disponi di un certo linguaggio sei portato a pensare secondo le strutture di quel linguaggio ora questa appunto si chiama l'ipotesi Sapir-Whorf normalmente e ha dei versanti più solidi e dei versanti meno solidi cioè si può essere tentati poi di estenderla a tutto quanto ad esempio io in questo periodo mi sto interrogando abbastanza con una certa difficoltà perché è difficile venirne fuori con qualcosa di sicuro sulla questione attualissima se il fatto che l'italiano quando designa delle entità plurali sia maschili che femminili usa il maschile ecco se questo fatto di fatto diciamo tende a influenzare la mentalità delle persone fino a farli pensare che gli uomini siano più importanti delle donne ci sono molte persone anche miei colleghi assolutamente convinte che sia così io ho qualche dubbio perché ci sono aspetti del linguaggio in cui è molto chiaro restiamo al genere per noi il sole è un'entità sostanzialmente maschile e la luna è un'entità sostanzialmente femminile perché noi non siamo germanici se noi fossimo germanici in particolare tedeschi die zone der Mont la luna sarebbe il luno e il sole sarebbe la sola una cosa del genere li sentiremmo in questo modo non solo ma anche il tavolo e la sedia per noi forse sono un maschio una femmina mentre quelli sono ancora meno animati o animabili nella mente del sole e della luna però un saporino di maschile e di femminile ce l'hanno l'esempio più importante di questa tradizione è quello fatto da da Worf secondo cui gli Inuit gli Nuktikut cioè popolazioni eschimesi hanno diversi nomi per la neve quindi la neve che cade si chiama Aput che cade si chiama Aput quella non so mucchiata dalla valanga si chiama Pixirpok quella spinta dal vento si chiama Kemunsuk e cose del genere allora è chiaro che se hanno tutti questi diversi nomi per loro non è che è sempre neve sono sostanze diverse se quella pallotolata dalla valanga si chiama Pixirpok e quella spinta dal vento si chiama Kemunsuk potrei sbagliare ora gli accoppiamenti di questi nomi i nomi sono veri ma potrei ora allora per loro sono cose diverse e questo poi è stato variamente messo in discussione sia proprio nei fatti cioè che davvero fossero quelli i nomi sia più in senso più lato nel dire ma però lo sanno che è tutta neve lo sanno che è tutta neve sono nomi diversi della neve ma non gli impediscono di percepirla come tutta neve e lì si può fare anche un'altra obiezioncina per esempio da noi il ghiaccio la neve e l'acqua li sentiamo come delle cose molto fra loro diverse ma è sempre acqua è un po' come la neve appallottolata dalla valanga il ghiaccio è quello che esce dal freezer oppure dal ghiacciaio ma è acqua e la neve è acqua e la brina è acqua insomma si può ammettere che il fatto che usiamo nomi diversi ci aiuti oppure ci costringa a percepirle come entità fra loro diverse se invece la chiamassimo acqua solida acqua liquida acqua palline probabilmente ci sembrerebbero più tutte la stessa cosa ecco allora questo ci fa vedere come la lingua costruisce la realtà in che senso costruisce la nostra concezione della realtà e se vale per le cose concrete vale ancora di più per le cose non concrete il concetto di innamoramento il concetto di amore il concetto di disprezzo quello di disgusto non è che stanno lì proprio si possono toccare si vede che sono diversi in una lingua in cui la parola disprezzo e la parola disgusto fossero un'unica parola probabilmente le persone non penserebbero in termini di differenza fra disgusto e disprezzo per noi è facile diciamo vedere la differenza tra disgusto e disprezzo perché abbiamo le due parole in una lingua in cui introdurre qualcosa in bocca fosse se dicessi in un unico modo diciamo non ci fosse la differenza tra inalare e inghiottire probabilmente ci vorrebbe più tempo a chi parla quella lingua per rendersi conto della differenza oppure se tu e qui torniamo alla scrittura se uno in realtà si potrebbero dire delle cose molto interessanti anche sul fatto che scrivere rende capaci di organizzare meglio l'intero discorso poi magari non so se vogliamo arrivarci o meno ma restiamo su questo aspetto lessicale se io non ho una grande varietà di lessico cioè se non mi esercito mai e quindi resto alle poche parole a cui sono abituato quando vedo un tizio che è un po' stranino un po' diverso dagli altri dirò ma guarda lui come è strano oppure dirò è un tipo particolare parola che va molto di moda adesso e la mia comprensione del perché lui è particolare resterà a un livello che io può diciamo così dentro di me c'è qualcosa che mi fa mi fa capire lui com'è ma ho molta difficoltà a usarlo a usare questo concetto per in modo operativo perché c'è una bella differenza se lui è timido se è riservato se è umbratile se è insicuro cioè tra insicuro timido prendiamo solo umbratile quasi nessuno sa cosa vuol dire però quindi lo lascio un attimo da parte ma tra insicuro timido e riservato ecco chi dispone veramente di queste tre parole si rende conto che sono cose diverse timido è uno che non vuole manifestare la propria interiorità se non ha difficoltà a manifestare la propria interiorità se non ha persone con cui è intimo riservato è uno che invece non vuole che si sappiano cose sue personali è molto diverso da manifestare il proprio stato d'animo invece sapere fatti suoi personali insicuro è sempre uno che ha difficoltà a manifestarsi ma per un motivo completamente diverso cioè specifico teme di risultare male allora queste cose diverse se io le so perché ho le parole poi con un insicuro mi comporterò in un modo con un timido in un altro con un riservato in un altro invece di spaccare tutto come un elefante in una cristalleria e qui torniamo alla felicità cioè che rapporti umani posso costruire sulla base di è un tipo particolare e che rapporti umani posso costruire sulla base della distinzione fra timido insicuro riservato delicato questo solo sul piano lessicale avere le parole mi rende una persona che vive in un mondo in cui esistono concretamente le differenze in questo senso la parola plasma la realtà riprendo quello spunto iniziale del rapporto tra oralità ha scritto un libro la serie parla di carcere di donne e di cibo lei genero ha scritto un libro che si chiama La gabbia è piena e presentandolo ha posto appunto il problema di una comunità di leggenti sempre più ristretta di fronte a una comunità di fruitori di narrazioni orali che invece è vastissima allora mi chiedo è una specie di ritorno indietro al tempo in cui eravamo erano in cui erano pochi gli alfabetizzati e quindi leggenti mentre erano moltissimi gli ascoltatori di storie noi qui in Val d'Aosta siamo affezionati alla tradizione della veia che è in tutte c'è in tutte le società contadine e quindi legata anche a questi racconti della notte nelle stalle e mi chiedo è di questo che si tratta cioè del rapporto il rapporto tra oralità e scrittura si gioca così tra popolo e elite o andando ancora ancora più avanti su questo discorso cioè che che rapporto c'è oggi tra ricchezza potere cultura cultura soprattutto intesa come buon uso della propria lingua e magari anche di altre lingue di numerose altre lingue anche qui lei ha un pensiero complesso e quindi genera domande complesse non potrò rispondere a tutto decido di rispondere alle cose su cui ho delle idee un pochino più formate meno casuali allora anzitutto è chiaro che qui c'è un ricorso storico cioè l'umanità cominciato dall'oralità e anzi le prime cose che noi abbiamo scritte sono il deposito il depositarsi scritto di tradizioni assolutamente orali nessuno discute che le lia dell'odissea siano state tramandate in maniera orale per moltissimo tempo la struttura stessa di questi testi lo mostra cioè sono punteggiati sono direi puntellati più che punteggiate di espedienti diciamo per facilitarne la memorizzazione e soprattutto per funzionare come testi orali e quindi potremmo anche dire di che vi preoccupate non è affatto vero che stiamo abbandonando i tempi passati ma anzi ci stiamo finalmente ritornando e per quanto riguarda elite e non elite io ormai moltissimo tempo fa nel 2007 e in quelle trasmissioni che sono state citate all'inizio Castellinaria ne avevo intitolata una la prevalenza del cretino prendendo a prestito il il saporitissimo modo di dire da Frutterio e Lucentini quindi da un testo scritto perché mi ero accorto che ormai c'erano questi programmi televisivi in cui uno stava seduto a esibire la sua pochezza e questo lo rendeva particolarmente c'era già una piccola corte intorno di persone che caso mai tu non lo capissi ti facevano capire che bisognava adorarlo e direi questa pochezza lo rendeva molto popolare secondo l'intuizione geniale di Umberto Eco in quel trafiletto che aveva fatto che si intitolava la fenomenologia di Mike Buongiorno e cioè senza nulla togliere al genio di Mike Buongiorno lo stesso Eco naturalmente lo riconosceva e cioè com'è che si la cosa dopo Eco è di quelli che capivano le cose al volo quindi molto prima che ci fossero che fossero visibili le condizioni per capirle a pieno come anche quelli negli anni 50 quelli della scuola di Francoforte avevano già capito tutti i malestri che avrebbe combinato nella nostra civiltà la televisione quando ancora la televisione era un cosino piccolo così grigiolino tutto frusciante che non era niente al paragono e allora avevano già capito tutto allora Eco aveva capito questo che si diventa popolari perché la gente ha voglia di stare vicino a te di stare al tuo cospetto allora cos'è che fa sì che la gente abbia voglia di stare al tuo cospetto non certo che tu sia inarrivabilmente migliore di loro appena tu mostri di avere dei pensieri che che loro potrebbero anche non capire fino in fondo appena si vede che sei meglio tra virgolette nelle cose in cui ci si misura con gli altri subito magari dicono sì lui è molto bravo se dovessi affidare i miei soldi a qualcuno li affiderei a lui però non me lo mettete davanti perché mi mette in un senso di fastidio no? e io appena lo vedo mi sento inferiore e quindi Mike Buongiorno giocava la carta opposta cioè faceva apposta delle incredibili gaff che dimostravano la sua pochezza non so è famosa quella in cui lui disse leggo qui Paolovi chi è questo Paolovi ed era Paolo VI non so diceva ecco non ricordo con esattezza ma non so se lo fa apposta mefistofelicamente oppure davvero è così ma il risultato è che la gente davanti a Mike Buongiorno si rilassa e si sente completamente a proprio agio perché dice beh insomma anch'io mimica male se lui sta in televisione guadagna tutti questi soldi ed è così io anche sono uno importante allora e io concludevo con un'altra frase guida che era se sei un fessacchione hai la strada spianata cioè siamo in una civiltà in cui la super esposizione fa sì che si possano guadagnare delle popolarità che portano fino al potere mentre prima il potere si raggiungeva in altri modi cioè attraverso la concreta constatazione che eri bravo ottenevi una delega e da certe persone che siccome erano brave ottenevano la delega ad altre alla fine tutti votavano che so De Gasperi con cui non ho nessuna particolare simpatia ma era bravo e la bravura si trasmetteva da persona a persona la nozione della bravura adesso invece la nozione diciamo così ciò che rende vicini al potere è essere molto popolari e ciò che rende molto popolari è essere dei fessacchioni quindi uno potrebbe anche dire quella cosa che dicevo sulla felicità non riguarda il potere cioè essere molto bravi molto intelligenti molto articolati capire tutto ti darà dei vantaggi per esempio nel business ti darà dei vantaggi nei rapporti umani nella seduzione però probabilmente per avere il potere bisogna o essere cretini oppure fingere molto bene di esserlo e direi che questa analisi che poteva sembrare azzardata nel 2007 adesso mi pare dimostrata in modo lampante quindi non dico più niente su questo punto e allora quindi cosa vuol dire il rapporto fra elite elite istruita e in possesso di strumenti per ragionare bene e invece non elite che ne è priva bisogna vedere cosa si intende con elite se noi definiamo l'elite come i più intelligenti preparati eccetera è tautologico è ovvio che più sei preparato e più sei elite invece se con elite mi viene in mente quella battuta di Woody Allen papà papà lui è il padre di un bambino dice papà ma chi comanda in questa famiglia tu o la mamma e lui dice ovviamente comando io la mamma prende solo le decisioni allora chi prende le decisioni oggi probabilmente se questa è l'elite se prendere le decisioni e essere l'elite non c'è più un'equazione e forse l'ha inaugurato Berlusconi cioè Berlusconi più come tycoon più come diciamo introduttori in Italia della televisione in cui prosperano quei fessacchioni e poi naturalmente seguito subito in modo corrivo dalla televisione di Stato il trentennio che ormai ci separa dall'inscesa in campo di Berlusconi è un trentennio in cui sempre più è apparso evidente che per diventare potenti e prendere le decisioni non era più necessario essere i più bravi anzi essere i più bravi costituiva un handicap e questo per le elite la faccenda delle serie allora le serie sono una cosa epocale perché io non so non penso di essere l'unico però leggo poco soprattutto leggo poco di volatile di attualità quindi a volte probabilmente dico delle cose che ormai sono ovvie per tutti però noi avevamo il romanzo il romanzo era la narrazione cioè era quello che tu citavi Daccia Maraini ma anche Umberto Eco per l'appunto ritorna insomma quando si cerca di promuovere la scrittura si dice sempre quella frase di Eco chi legge vive infinite vite mentre chi non legge vive solo la sua quindi leggete che ve conviene e allora i ritmi della vita di oggi e non solo i ritmi ma la il rapporto fra povertà semiotica e ricchezza semiotica cioè semiotico intendendo come meccanismi di significazione il trasferimento di significati quando sono venuti gli audiovisivi noi ci siamo trovati con nelle mani una cosa fantastica cioè tu nello stesso tempo puoi fornire a uno non solo le parole che sono un esile filo che gli dà poi da costruire lui tutto quanto le immagini i suoni le sensazioni siamo diventati capaci di è la banda larga cioè nella stessa unità di tempo invece di fornire di questo esile filo che sono le parole noi possiamo mandare a una persona tutto quanto ancora non siamo agli odori e ai colpi però ci sono delle sale in cui si cerca di fare anche questo ma sicuramente l'audio video passa allora perché il film vince sul romanzo storicamente cioè a un certo punto la forma di arte più vitale più influente quella più decisiva è stata per lungo tempo il cinema perché io nello stesso tempo ti do molto di più è chiaro che tu tendi a orientarti lì insomma se io ti do dei crackers oppure una meravigliosa pastiera oppure le lasagne quasi tutti vanno verso le lasagne perché c'è più grasso c'è più roba allora l'audiovisivo ti dà più roba che poi questo sia un vero vantaggio ovviamente è discutibile perché ogni cosa che ti dà ti impedisce di inventarla tu e allora è chiaro che leggendo il romanzo tu inventi di più e quindi il tipo di esperienza che fai è in prima battuta diciamo quel che ti arriva è più povero ma quello che poi alla fine ti rimane magari è più ricco oppure comunque è più sintonico con il tuo modo di essere quindi può radicarsi più profondamente in te ci sono un sacco di cose che si potrebbero dire ma sta di fatto che siccome pochi sono degli atleti del loro intelletto e quasi tutti sono dei così dei dilettanti siamo tutti dei dilettanti quasi in tutto salvo che in pochissime cose una cosa uno strumento che ti manda tante informazioni nell'unità di tempo è destinato a vincere perché tutti quanti si accodano a questa fantastica possibilità di fruire e del resto abbiamo anche modo di dimostrare in maniera matematica qual è la differenza in pochi fotogrammi di un film ci sono c'è più informazione codificata nella memoria magnetica del supporto che lo ospita che in decine e centinaia di romanzi e l'ingombro è enormemente maggiore io posso mettere tutta la letteratura italiana in uno spazio che è infimo per metterci un lungometraggio qualunque anche schifoso la quantità di informazione necessaria per un film è moltissima quindi cosa è successo questa ricchezza semiotica si è imposta la cosa che ti dà di più con meno fatica ha vinto sulla cosa che ti dà di meno o comunque apparentemente immediatamente di meno con più fatica però cosa che ancora mancava all'audiovisivo mancava quella funzione di accompagnamento cioè tu il romanzo lo inizi oggi e per diverse settimane a meno che tu sia di quelli che vogliono fare il record e poi mettono su facebook quest'anno ho letto 365 romanzi però invece queste sono cose diciamo patetiche secondo me in realtà l'importante del romanzo è il livello a cui ne fruisci ecco il romanzo è una cosa che ti accompagna tu sai che la sera che avrai tempo per leggere ritorni in quel mondo quindi il romanzo è narrazione non solo perché con i mesi della realtà rende dinamico nel tempo rende qualcosa dinamico nel tempo come noi abbiamo esperienza che tutto ciò che è reale è dinamico nel tempo salvo i diamanti allora il romanzo riusciva ad accompagnarti a far sì che tu questo vivere un'altra vita lo vivessi su scala di vita cioè nello svolgersi diacronico nello svolgersi nel tempo della tua stessa vita quindi aveva la funzione sia di farti vivere qualcos'altro di acuire la tua fantasia di approfondire la tua comprensione delle cose umane perché naturalmente la letteratura cesella nervature significative non racconta in modo piatto ma fa venire a galla l'importante però tutto questo lo faceva in questa accompagnarti e invece il film no il film durava un'ora e mezza se era di Kubrick durava tre ore e mezza però comunque era un episodio era un momento e non era una fase della tua vita la fase in cui leggevi guerra e pace e io continuavo a dire ma cosa succederà e poi è successo e cioè adesso abbiamo l'audiovisivo che ti accompagna abbiamo le serie che caratterizzano un periodo della tua vita che lo colorano che lo fecondano anche intellettualmente perché queste cose spesso sono a dei livelli assolutamente non inferiori a un buon romanzo ci ha lavorato più gente alcuni di quali sono dei veri geni e altri sono degli eccellenti esecutori sotto la guida di questi veri geni quindi noi abbiamo semplicemente che adesso abbiamo anche la narrazione che ti accompagna che ti fa vivere altre vite in formato audiovisivo e quindi direi il romanzo è battuto in maniera senza più diciamo speranza non so perché io nella mia esperienza personale ho l'impressione che questo famoso esercizio di soggettività che tu fai leggendo non sia lo stesso che tu fai guardando una serie quindi c'è il discorso dell'accompagnamento ma il fatto di essere protagonisti e di farsi protagonisti nel perlomeno a livello mio proprio personale rispetto a una cosa che vedo al cinema ma al cinema no ma scusa mi sono fatto capire male il romanzo è battuto sul piano quantitativo cioè siccome questa esperienza di cui stiamo parlando è qualcosa che interessa addirittura che è accessibile nel senso che se ne rendono effettivamente conto solo una minoranza di persone ma non voglio essere valutativo sarebbe come dire solo una minoranza di persone va alla pesca di trota con la mosca secca non è che sono i migliori sono una minoranza allora questa esperienza questa differenza la percepiscono in pochi ma il grosso no e quindi a questo punto il grosso si orienta decisamente sulle serie per fortuna siamo tanti siamo vari e quindi anche i romanzi vengono ancora letti ma non possono competere il business complessivo non è paragonabile mi strappo con dolore le domande che avrei ancora per lasciare spazio a una domanda che è arrivata in chat che però è molto carina ed è ci sono politici populisti che si servono del linguaggio e sono bravi a parlare ma non dicono la verità ci sono trucchi per sbugiardare per smascherare le bugie allora le bugie esplicite si smascherano semplicemente mostrando che non è vero quindi sul terreno dei fatti se uno dice voi avete truccato le ultime elezioni si deve procedere a un accertamento diceva bene il tale tribunale accerterà se è vero che quelle schede sono state manipolate e così via il problema maggiore secondo me non sono le bugie esplicite ma è il fatto che si può dire il falso senza avere l'aria di dirlo cioè si può far formare nella mente dei nostri destinatari un'idea senza che ci sia stato un momento in cui noi quell'idea l'abbiamo apertamente introdotta ora dato che la domanda riguardava un politico populista mi viene i politici populisti mi viene in mente un esempio di un politico populista il cui discorso ho analizzato insieme al gruppo di mie allieve che si occupa in questo momento grazie a un finanziamento pubblico di schedare un immenso corpus di discorsi politici in tutta la storia della Repubblica italiana proprio su queste categorie dell'implicito questo esponente politico durante una campagna elettorale è andato a Cuneo e ha detto qualcosa tipo noi vogliamo io voglio restituire dignità a questa città naturalmente in quel momento Cuneo era governata da avversari politici da un diverso partito allora dire che vogliamo restituire dignità a questa città non è come dire questa città non ha una dignità anche se per restituirgliela bisogna che non ce l'abbia di solito quando parlo di queste cose se ho una ampia sala davanti io dico scusate vi dispiacerebbe chiudere quella finestra allora tutti guardano quella finestra constatano che è chiusa e dicono ma che sta di e allora io gli dico vedete se io vi chiedo di chiudere la finestra non vi ho detto che la finestra era aperta ma voi tutti avete capito che la finestra era aperta quindi io vi ho comunicato che la finestra era aperta senza però presentarmi come la fonte del fatto che la finestra era aperta se io dicessi quella finestra è aperta si noterebbe che sto dicendo il falso se io dico per favore chiudete la finestra sembra che io diciamo l'idea che la finestra in questo momento è aperta io non la attribuisco a me stesso ma la attribuisco a tutti tutti lo sappiamo già che è aperta allora è interessante che quando si comunica in questo modo e qualunque lingua contiene molte decine per non dire centinaia di strumenti appositi per fare questo tipo di operazioni quando noi presupponiamo qualcosa invece di dirlo oppure quando noi facciamo implicare qualcosa che sono cose diverse anche se nel linguaggio comune sono la stessa cosa noi otteniamo che i destinatari siano raggiunti da quell'informazione ma non la processino con la stessa attenzione con cui la processerebbero se noi apertamente la asserissimo quindi se quel politico avesse detto cuneo è una città priva di dignità tutti sarebbero stati contro di lui lui invece ha detto dobbiamo restituire dignità a cuneo e tutti erano con lui ma lui gli aveva appena detto cuneo è una città senza identità gliel'aveva appena comunicato però non come se fosse una cosa che diceva lui ma come qualche cosa che loro già sapevano su cui tutti erano già d'accordo cioè lui è riuscito a infangare completamente l'amministrazione cuneese di quel momento come amministrazione che rendeva la città una città senza dignità senza però assumersene la responsabilità allora questo è solo un esempio quel mio libro che lei ha avuto la bontà di leggere la lingua disonesta è un libro grosso così che parla tutto di queste cose cioè c'è un sommerso e stiamo lavorando perché non si possa più far così cioè naturalmente non riusciremo a cambiare la nostra civiltà però qua e là in Francia stanno adottando questo stesso metodo diciamo che si può fare molto perché le persone diventino sempre più consapevoli di quando si usa il linguaggio per fargli credere qualcosa bypassando eludendo la loro attenzione critica la loro vigilanza prima di restituire la parola ai nostri ospiti e chiudere perché il tempo è quasi finito vorrei condividere con lei e sollecitare il suo parere su una su un'affermazione che io condivido molto e dice sostanzialmente la tutela della lingua non è una pratica reazionaria e fascista se l'italiano popolare si fa populista difenderlo è da partigiani perché quando si precisa che il congiuntivo ci vuole o che ti prendi sempre del conservatore allora mi sono appassionata a questa affermazione della lettura e vorrei sapere lei cosa ne pensa dipende cosa si intende per tutela della lingua la ragione per cui c'è il sospetto di pratica reazionaria fascista poi magari in questo caso è meno pertinente però è che molti con tutela della lingua intendono sostanzialmente far sì che la lingua non cambi in nessuna maniera che poi è l'equivalente di dire la lingua che io ho acquisito da papà e mamma è quella giusta perché chiunque dica l'italiano deve rimanere quello lì trascura che quello lì che lui ama tanto è l'esito di un cambiamento di un precedente stadio di italiano che a sua volta è di un precedente stadio italiano che a sua volta è del latino che a sua volta è di un idioma indoeuropeo già più sfocato nella nostra visione che ha preceduto il latino eccetera eccetera fino a alcuni suoni gutturali di tipo o minaccioso o chiamiamolo così desiderante che ci scambiavamo nelle caverne allora se ogni volta si postula che lo stadio precedente è migliore bisogna tornare ai grugniti ancestrali quindi diciamo così non è molto una posizione molto difendibile quella che la lingua vada fermata quelli che vogliono affermarla sostanzialmente vogliono fare un'attività reazionare invece la tutela della lingua è per esempio consentire che l'italiano si doti anche di parole inglesi ove necessarie e naturalmente come sempre in tutte le cose gli estremi sono molto semplici e cioè tutti devono parlare come parlo io questo è semplicissimo ed è più o meno la posizione di tutti i grammar nazi che infatti non si rendono ben conto di quanto non sono d'accordo fra di loro o meglio se ne rendono conto quando cominciano a litigare ferocemente per un qualunque dettaglio e mostrano anche la loro diciamo così pochezza e invece la o altro l'altro estremo è ogni cosa nuova va bene quindi qualunque parola inglese anche identica alla parola italiana corrispondente eppure più lunga usata in continuazione sono posizioni molto semplici e al tempo stesso in quanto estreme è molto improbabile che siano le più ergonomiche le migliori la tutela della lingua è saper distinguere ed è molto più difficile cioè la ragione per cui tendono a prevalere gli estremi è che gli estremi sono facili da capire e quindi siccome purtroppo anche gli insipienti gli inesperti sono più numerosi di solito degli esperti ci sono molte più persone che tifano per un estremo che persone che cercano di vedere come stanno veramente le cose un po' come una partita di calcio ci sono 50.000 persone di solito 30.000 sono convinte che il rigore non c'era e 20.000 sono convinte che il rigore c'era e quasi nessuno è convinto della cosa vera e cioè che c'era un pochino ma insomma si poteva decidere in tutti e due i modi quasi sempre le cose stanno così e tra l'altro sai perché le cose stanno sempre così? perché gli estremi non sono quasi mai la cosa giusta lo dico anche se non è parlare di lingua ma perché riguarda anche il problema di cui ci siamo occupati la ragione è questa la realtà è complessa e la nostra mente come al solito è in grado di rappresentarsela in tanti modi allora noi possiamo rappresentarci le cose in dei modi che grossomodo si distribuiscono su una scala con degli estremi chiaramente rispetto al centro cioè al modo in cui le cose grossomodo stanno gli errori possono andare sia in una direzione che nell'altra e più le cose si discossano dal centro più sono estremi questo è il nostro modo di funzionare cioè noi concepiamo le cose secondo una una scala di possibilità che va verso un estremo oppure verso l'altro allora se la realtà sta in un certo punto non importa dove noi subito generiamo degli estremi lontani se la realtà si sposta noi genereremo un estremo ancora più lontano perché rispetto alla realtà noi generiamo estremi quindi degli estremi bisogna sempre diffidare perché sono degli artefatti della mente che discendono dal centro ogni volta che c'è un centro verosimile plausibile le menti delle persone ci saranno sempre delle menti che si inventano degli estremi abbastanza lontani ecco quelli si potrebbero depennare quasi a priori perché se c'è una realtà verranno per forza generate delle balle agli estremi ecco anche per la lingua le cose stanno molto più nel mezzo e ci vogliono molte competenze per poter dire diciamo dov'è quel mezzo quindi buffissimo ci sono degli ignoranti totali che si permettono di bacchettare l'accademia della crusca dove siedono appunto quei pochissimi competenti perché quegli incompetenti hanno generato nella loro mente un cretinissimo estremo beh io non posso che ringraziare per come hanno sapientemente esposto e dialogato su questo tema oggetto della conferenza di oggi la parola non è volatile è veramente e lo abbiamo capito che è veramente concreta almeno nelle nelle conseguenze le persone non è la parola non è la parola